ciao ragazzi nuovo video tutto tech molto veloce per potervi dire che attualmente ho visto che ci sono delle grosse offerte su amazon per quanto riguarda i dispositivi eco quindi se volete ampliare la vostra gamma di prodotti o siete neofiti e volete provare ad entrare nel fantastico mondo del nostro dispositivo vocale non posso dire il nome perché sennò poi dopo mi sgridate che vi attivo i vostri dispositivi in casa comunque l'assistente vocale di amazon c'è in questo momento una delle scontistiche abbastanza importanti per quanto riguarda i dispositivi quindi bando alle ciance andiamo subito a vedere partiamo con ecopop da 54 euro 99 a 43 euro 99 ecopopop è l'ultimo uscito in casa amazon ed è una cassa con all'interno il nostro assistente vocale quindi la possibilità di poter gestire tutta la casa tutti i prodotti che vedrò ad elencare sono tutti i complessivi del nostro dispositivo vocale alcuni hanno più caratteristiche per gestire la domotica cosa che fanno tutti ma altri hanno in più anche una cassa un po più importante per poter ascoltare al meglio anche la musica però proseguiamo ecodotto di quinta generazione da 64 euro 99 a 47 euro 99 ecodotto di quinta generazione ma con l'orologio che come ci sono parecchi video sul nostro canale di tutti i prodotti la nuova versione vi dà molte più notizie rispetto alla precedente con dei pixel che compongono queste informazioni sul display nascosto molto dettagliate e va da un prezzo di 74 euro 99 a 63 euro 99 passiamo poi ad un eco abbastanza importante per dimensioni di quarta generazione da 119 euro 99 a 89 euro 99 concludiamo con eco show 5 di terza generazione l'eco che ha anche il monitor quindi può fare anche da video sorveglianza per la casa richiamando tramite la telecamera del vostro dispositivo tramite la app la visuale di casa vostra può fare tante tante funzioni da 109 euro 99 a 90 euro e 99 tutti i prodotti che vi ho presentato sono qui sul canale abbiamo fatto delle recensioni qui sul canale di tutti questi prodotti e quindi potete scorrere e vedere quello che più fa per voi grazie alle caratteristiche che abbiamo elencato con anche dimostrazioni pratiche vi lascio qui sotto i link in descrizione per poter effettuare gli acquisti e io direi che per questo video tutto ci vediamo al prossimo ciao ragazzi ciao ciao